segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te stiamo dicendo un'altra cosa nessuno ha detto che un partito fascista di massa nessuno ha detto che c'è un rischio fascista eccetera e italo giorgia meloni e la polonia cioè e la il suo viaggio internazionale ci ha fatto capire qual filo atlantismo come legittimazione nato e conferenza stampa insieme al leader polacco che un modello ultraconservatore in quel modello molto ultraconservatore e di restringimento sui diritti questo brodo ci sta bene capisci l'anno prossimo con l'accordo col pp che non è la marcia su roma e giorgia meloni sarà la nuova merkel all'interno della politica domanda giorgia meloni e ignazio le russas